Buon martedì amici della Non Solo Libre, eccoci qui per un nuovo video. Ormai sapete che da diciamo almeno il precedente video, almeno i due precedenti video, quello che farò fino a Natale è farvi vedere più materiale possibile, estremamente interessante per quel che mi concerne, a compartimenti, ok? Adesso voglio relazionarmi solo ed esclusivamente col fumetto supereroistico americano, in questo caso Marvel e qualcosina di alternativo. Arriva il Natale ragazzi miei e quindi farvi vedere nel dettaglio come mi piace sempre fare, in realtà 4-5 titoli eccetera eccetera, oggi ne sono 7-8-9, adesso vedremo, poi ne prenderò qualcos'altro, magari anche di DC, insomma mi piace, ho voglia appunto di potervi far vedere tante idee possibili regalo da farvi fare, da fare, da farvi fondamentalmente e via dicendo perché, perché comunque sia il fumetto secondo il mio parere se selezionato bene può essere una di quelle cose che insomma farà dire wow a chi lo riceverà e come sempre vi ricordo prima di iniziare, boom, di iscrivervi a questo canale, di mettere un bel mi piace a questo video e tutti quelli che recupererete di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, cosa che potete fare, lo sapete bene, qui sotto trovate tutti i link a tutti i nostri social, io ringrazio quei pochi ma buoni che stanno in qualche modo seguendo e quindi aiutando il canale 4chiacchiere tech, boom, spiderwebtech insomma, lo trovate sempre qui sotto. È un canale che tratta di tecnologia ma per modo di dire nel senso è un modo come un altro per stimolare in qualche modo qualche pensiero, dialogo su quello che noi stiamo vivendo oggi attraverso dei prodotti o attraverso dei concetti. Se avete voglia mi farebbe veramente tanto piacere che quel canale avesse il sostegno possibile perché io ci metto tutta la mia volontà e passione ma per andare avanti ho anche bisogno naturalmente del vostro sostegno quindi grazie a tutti quelli che vorranno andare sul canale, iscriversi e guardare qualche video che vi sembrerà naturalmente interessante. E come vi dico qui condividere, condividere perché serve a far arrivare a qualcun altro insomma qualche concetto o magari non sanno dei canali appunto che io gestisco, mi piacerebbe che arrivassero altre persone che possono essere appunto interessate al mio ciarlare. Basta ragazzi, ho tanta voglia di farvi vedere queste straordinarie opere. Sigla. E sono qui, sono rimasto qui naturalmente. Come sapete questi video non vi faccio vedere con le mie mani che ho messo posto le vostre disegni ma anche perché ci sono autori straordinari e fantastici nel frumento superioristico americano che non devono per forza di cose essere così come posso dirvi lanciati, no? Mentre magari nel manga o nel fumetto un pochino più alternativo al classico mainstream e via dicendo c'è magari quel bisogno di far arrivare ancora di più il concetto, farvi capire quanto può essere straordinario anche tutto ciò che è al di fuori di quella sorta di logica appunto del fumetto commerciale cosiddetto supereroistico o il manga action e via dicendo. C'è tanto altro, ogni tanto anzi, il più delle volte ve lo faccio vedere, dai, chi mi segue sa. Ma è Natale, è Natale e bisogna stare un pochino più sul sicuro. Quindi se voi sapete, avete un amico o voi stessi, sapete, amate l'universo Marvel, ok? Come in questo caso vi farò vedere e un po' di DC, dai, ve la butto dentro, vai fuori dalle scatole. Insomma, ve la regalo. Questi volumi credo che saranno delle straordinarie alternative a possibili regali a cui avevate già pensato. Partendo dal presupposto, era già uscito, ve lo faccio vedere naturalmente, è sempre disponibile. Bohm, una bellissima iniziativa di Panini Comics. Tra l'altro, scusatemi, faccio un... Vedrete che tutti i volumi che io vi presento sono cartonati. E hanno il prezzo, alcuni di questi, gli ultimi usciti da parte di Panini, degli ultimi brossurati. O c'è un minimo impegno da parte di Panini nel cercare di diminuire un pochettino i costi di alcuni volumi e a me farebbe tanto piacere perché a me piace molto di più il cartonato che il brossurato, è anche più resistente. Se così fosse, grazie Panini. Se invece è stato un caso di questi tre, quattro che sono usciti ultimamente e che vi farò vedere, beh, non lo so. Comunque, allora, le origini dell'universo Marvel, eroi, eroi. Quindi, bello, scusate la mia voce nasale, scusate se faccio fatica un po' a respirare, ma sono raffreddato tipo da tre mesi. Così, eh. L'eroe dell'universo... le origini dell'universo Marvel, eroi, che cos'era? Era una... era, è un volume che racconta le origini, cioè quindi le prime storie di vari personaggi, vari gruppi e quant'altro. eroi, è anche una piccolissima parte iniziale che vi spiega, vi dà dei riferimenti o comunque qualche nozione. Eh, mancavano però chi? I super cattivi, ragazzi, guardate che roba. Volumone, volumone. Posso? Posso? Più interessante degli eroi, dai. Diciamo la verità, dai, 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 dai. Va bene, costano entrambi 75 euro. Se li prendete tutti e due insieme, 150 euro e avete fatto un regalo meraviglioso. Perché? Perché questo volume, dai, diciamocelo. Se chi lo compra, ma veramente dovete essere stra-mega fan della Marvel e volete a tutti i costi anche, ma costando così tanto e uscendo tanto materiale, questo, son sicuro, che in tantissimi lo volete, ma lo avete accantonato. Perché lo volete e lo avete accantonato, tra virgolette? Perché fondamentalmente, e lo capisco, lo comprendo, credetemi, ok? Eh, costa. E quindi? Quindi perché non farselo regalare? Boom! Fatevelo regalare. Questo è il sunto di tutto. Tutti e due, anche solo quello dei cattivi. Vabbè. Allora, pausa, farò un po' e un po', eh? È uscito Void, ve lo faccio vedere. Che cos'è? Eh, Saldapress arriva in Italia con lo straordinario Energon Universe. Non solo Transformer, ricordatevelo, ma soprattutto Transformers. Void, Void Rivals, ci sono i creatori, eccetera. Per chi conosce i Transformers, sa. Ci sono anche quelli che sembrano, secondo me, i micronauti. Vabbè. Comunque sì, abbiamo Kirkman, abbiamo De Felici, abbiamo Lopez, abbiamo degli autori straordinari in questo Void. Che era uscito? È uscito. In Normal e Variant, valutate voi. Ragazzi, è uscito Transformer. Guardate, a parte la copertina, ci sono sempre dei gadget che potete richiedere in cassa. Noi ogni tanto ci dimentichiamo, quindi chiedeteceli. Ok, se non li abbiamo già finiti, ve li diamo più che volentieri, perché se no si è sempre pieni di cose che poi rimangono lì, insomma. Questa è la Variant. Io, ragazzi, non so quale mi piace di più. Ve lo dico sinceramente. Non lo so. E infatti me le sono comprate tutte e due. Questa è una cosa che capita spesso. Ma non per... Allora, sapete come la penso con le Variant? Ma cacchio, sono belle! Sono tutte e due bellissime. Vabbè, ma a me piacciono. Qui abbiamo Daniel Warren Johnson e Mike Spicer. Quindi, insomma, comunque sia due straordinari autori. Torniamo a Marvel. Torniamo a Marvel con i consigli. Ah, scusatemi. Costo. 25 la Variant e 22 la Normal. Saldapress potevi anche tranquillamente farle tutte e due a 22. Ma va bene. Allora, Deadpool Wolverine è arrivato. Insomma, e quindi sono arrivati varie opere. E due, secondo me, due. Una su Deadpool Wolverine, una solo su Wolverine, che sono veramente interessanti. Usciti da pochissimo. Quello che vi dicevo, questo è Terza Guerra Mondiale, WW Free, ok? Un team up, scontro all'ultimo sangue, che un po' ricorda i fasti del film, per chi l'ha già visto. Per chi non l'ha visto, lo dovete vedere perché è bellissimo, fa troppo ridere. 16 euro. 16 euro. Capisci? Capite? È il ciclo narrativo del 2024, quindi assolutamente e straordinariamente attuale. E poi è uscito Weapon X-Men, che è il multiverso di Logan, eccolo qua. 19 euro, molto più corposo, mettiamola così. E ci sono i primi X-Men e i Wolverine. I vari, quindi, che ne so, Old Man, Logan e via dicendo, insomma. Quello di Arma X, scusate, quello di... Oh, mamma mia. Adesso non mi viene. Comunque sia, di Alpha Flight, eccetera. Ce ne sono, ci sono l'universo dove Wolverine al femminile. Insomma, vari ed eventuali. Li trovate qui a scontrarsi con i primissimi, incontrarsi, scontrarsi, con i primissimi X-Men. E poi, ragazzi miei, facciamo una piccola pausa da Marvel. E poi, ripeto, qualcosa di sì, ve lo faccio vedere comunque. Anche se vuole fare un video a parte, ma chissene. Cyberpunk XOXO, io lo chiamo così, onde evitare. 19, no, 18 euro, un volume. Tra quelli usciti di Cyberpunk, credetemi, ve lo faccio rivedere. Mettetelo a fuoco, segnatevelo, carta e penna, sempre le cose migliori che potete fare per questi video, perché almeno vi segnate le varie robe. E poi andate ad esplorare voi l'informazione. Questo è un mio consiglio, è una selezione di quelli che, secondo me, in questo caso veramente vado a cuore, sono interessanti da leggere, ma naturalmente anche da regalare. Perché? Perché non hanno, non date il debito se voi, scusatemi, pausa. Se voi regalate di una serie, magari anche sono dieci numeri, che non sono così tanti, manga, quello che volete voi. Oppure prendete gli spillati, no? Volete fare un bel regalo, perché secondo voi è carino, no? Prendete, che ne so, il numero uno di, il numero uno di, il numero uno di, il numero di, ok? Però date un debito. Se poi quel regalo non piace, ok? Una persona poi rimane lì che non sa come va a finire o meno. Brutto. Se voi regalate un volume che inizia e finisce, anche se non rientra completamente nella logica, nei gusti, o era da parte vostra un consiglio perché a voi era piaciuto tanto quel genere e via dicendo, la persona che lo riceve può tranquillamente almeno saper come va a finire la cosa. Quindi Cyberpunk, eccolo qua, 2077, bellissimo volume da fare, assolutamente. Marvel, torniamo. Un volume che mi ha fatto impazzire, perché a me queste cose un po' kitsch, un po'... Sì, dai, dai, kitsch. Un po'... Un po' anni Ottanta. Un po'... Insomma, mi ha ricordato Michael J. Fox con un lupo americano malnaro. No, non mi ricordo. No, era voglia di vincere, scusatemi. Michael J. Fox, voglia di vincere. Grandissimo. Dove lui diventava appunto un uomo lupo. Cap Wolf e gli Owlings Commandos. Eccolo qua, ragazzi miei. Mamma mia. Anche questo è un'avventura ambientata. C'è Stephanie Phillips, c'è Carlos Magno di Savage Avengers. Insomma, comunque sia, veramente, questo mi è piaciuto estremamente. Guardate che belli i disegni. Riuscite a vedere qualcosa? C'è Ahime, un simbolo nazista, però fa parte del volume e via dicendo. Guardate, guardate che bello. È veramente bello. Mi è piaciuto tantissimo. costa 16 euro cartonato. Vabbè. Poi è uscito anch'esso 19 euro. È più grande? È quello che... Ok. Crypt of Shadow of the All. La cripta delle ombre. Abbiamo Edwin, Orlando, Shelby, Warren, Shaw. Eccolo qua, bomb. Qui abbiamo veramente di tutto. Da appunto Moon Knight, abbiamo Hulk, abbiamo Scarlet, abbiamo Deadpool, abbiamo Daredevil. Ne abbiamo veramente in quantità industriale, insomma, di personaggi che si aiuteranno, si confronteranno, si in qualche modo anche, diciamo, combatteranno, mettiamola così, eccetera, eccetera, appunto per un aiutare, come sempre, diciamo, il bene comune. Questo veramente. È un ciclo che è partito nel 2019, 2022, 2023 e via dicendo, quindi, tanti spunti per possibili interazioni future e che ha avuto un percorso di anni, ok, come vi dicevo, interessante proprio per quello, perché è stato sviluppato in vari momenti e quindi, insomma, si nota, si nota il cambiamento anche di riscrittura di alcuni personaggi. Allora, ragazzi, un volume, il preludio, secondo me, scusate il sorriso, di qualcosa che non capitava da veramente da anni, dal punto di vista proprio del piacere di tornare per me a guardare un cartone animato americano. Sto parlando di X-Men 97, eccolo qua. Questo è il preludio direttamente veramente dagli anni 90, cioè, non lo so, quando, guardate, vi porto un ricordo che sarà un ricordo del cavolo. Marvel Italia arriva finalmente, prende appunto i diritti Marvel, eccetera, eccetera, e stampa tra le varie cose, mi ricorderò, X-Force e aveva dentro in regalo l'orologio di plastichetta di X-Force, ce l'ho ancora a casa, vabbè. Che bello, che bello. X-Men 97, il preludio naturalmente ufficiale da avere, assolutamente. 16 euro, ragazzi miei, perché? Perché farlo? Perché è un tuffo, è un tuffo in un passato che è riuscito a ritornare. Se non avete visto la serie, guardatela, perché è un capolavoro. E questo volume, omaggio, o meglio, serve proprio per comprendere alcune visioni, alcune sfaccettature, anche e soprattutto per chi non ha la mia età e non è andato in profondità, non ha potuto fondamentalmente, non per mancanza di voglia, ma per mancanza di materiale. Quindi, da fare, da fare, da fare. Ve l'avevo detto, vi faccio due omaggi per modo di dire. Uno, spero di non far cadere, scusatemi, è perché ho il cavalletto esattamente, ecco. Lo sapevo che sarebbe successo così. Ok, ce l'ho fatta. Un omnibus che io ho trovato estremamente, io vi dico interessante, dai, perché non voglio esagerare. Un personaggio poco sfruttato, secondo me, da DC. DC, non perché DC non ne abbia le capacità, o perché è fatta così DC. DC, secondo me, è la... C'è una differenza, prima o poi ve lo farò, secondo il mio parere, una mia personale visione della differenza tra Marvel e DC, ok, soprattutto oggi. In qualche modo è il fatto che DC non riesce a prestare reale attenzione, o non si affida agli autori giusti, non lo so, per alcuni personaggi che possono sembrare di secondo piano, ma non lo sono. Ragazzi, Grayson, boom. Ma quanto è bello Agente 37? Perché questo è tutto il ciclo narrativo, è un omnibus, appunto, che ricorda la spia, la super spia, appunto, Grayson, ragazzi miei. Tim Saley, Tom King, Michael Janine, ragazzi miei. Robin, Dick Grayson, uno dei personaggi più importanti della Batman Family, ok, che però molte volte, Nightwing, eccetera, eccetera, viene, non lo so, viene bistrattato, viene utilizzato male per quel che mi concerne, ma nonostante venga utilizzato male, la miniserie Nightwing, ad esempio, è una delle cose più belle che io sto leggendo in questo momento, della DC. Perché? Perché è così, perché è un personaggio fondamentale, è un personaggio che si meriterebbe veramente tanto, tantissimo, no, voglio dire. Comunque sì, ragazzi miei, non costa poco, è un omnibus, è grande. Costa 80 euro. Questo è il classico volume che vi dovete far regalare, perché anche se non volete credere a me, ci sta, ci mancherebbe altro, e non pensate che un volume del genere, un personaggio del genere, un'evoluzione e rivoluzione del genere per questo tipo di personaggio, che ha avuto tre volte con questa, la possibilità di diventare qualcosa di diverso, ma di importante all'interno del contesto DC, ok, in questo ciclo narrativo che inizia e finisce bene, bene, per me naturalmente, è da fare, è da avere a casa, è da leggere una volta nella vita. Se siete anche solo curiosi di comprendere e capire il perché per la terza volta Dick Grayson cambia vita, mettiamola così. Veramente, veramente bello. Altra cosa, state qui. Il vate del fumetto supereroistico, l'essenza del fumetto supereroistico, anche solo per lo stile grafico che ha affascinato, anche ad esempio lo straordinario maestro Leortolani, ok, avete già capito di chi sto parlando, è uscito l'omnibus di Jack Kirby sull'universo DC. Ma vi rendete conto? Ragazzi, c'è Demon e Atlas, Superpower, Sandman, Malac, dentro Cobra c'è Spirit World, I Perdenti, Manhunter e Omac. Personaggi che magari a tanti di voi non diranno niente, ma sono dei miti di un particolare periodo e alcuni di essi sono stati ripristinati da altri autori, ad esempio Demon da Gartenni, se via dicendo, Omac non mi ricordo, ma insomma ragazzi miei, un volume meraviglioso costa tantissimo, 114 euro, ma faccio fatica a tenerlo, non è una battuta, guardate, insomma io non sono piccolino, veramente pesa tantissimo. Ok, Universo DC di Jack Kirby, cioè è questa storia, la mettete a casa ed è un testo su cui veramente studiare, analizzare al meglio quello che è stato e ha fatto evolvere il fumetto supereroistico americano. Insomma, quindi, voilà, guardate, la pigna si è. Se vi fate regalare tutto questo ben di Dio, passate le feste più belle che possono esistere, scambiatevi con i vostri amici, di cui vi fidate, a dargli il fumetto. Veramente, veramente. E sabato ragazzi miei, vorrei farvi un unboxing, adesso vedrò se vi faccio l'unboxing oppure se vi faccio un altro filmato facendovi vedere altre novità o altre idee regalo. Ricordatevi, prendete veramente carte e penna, assegnatevele, anche se non siete i nostri clienti, non siete di vicino a noi, no? In Via Antonio Stoppani, 75 a Seregno, 2831, Monza e Brianza, Lombardia, Italia, Europa, mondo, universo, via Lattea, Galassia e via dicendo. Però, però, potete, avete una fumetteria vicino. Non avete una fumetteria vicino, siete un po' pigri, io vi consiglio di andare a toccare con mano, ma prendeteli online, segnatevi di questi titoli. Sono sicuro che uno, almeno uno di questi, fa per voi. O vi ha incuriosito, dai, vi ha incuriosito. Provateci. Transformer, ma cacchio, Transformer, disegnato meravigliosamente. Void Rivals, secondo me, ancora più bello per il momento. Io li ho letti tutti e due e a me, personalmente, vabbè, ma lì c'è Kirkman dei Felici. Insomma, per l'amor di Dio, non che in Transformer ci siano due scemi, anzi. Però, però, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Momentaneamente è più interessante per me, anche perché mi aspettavo da Transformer qualcosa di più incisivo. Arriverà sicuramente con il secondo volume. Ci sono tantissimi, cioè, c'è un mondo intero di fumetti che vi aspetta nelle fumetterie e che è degno di essere letto. E quindi, ragazzi miei, andate, fidatevi del vostro fumettaro, fidatevi di me se avete voglia, o comunque sia, fatevi anche solo il ritiro, incuriosire, ok? Per il resto, io vi mando un abbraccio virtuale. Finiamo qua il video. Se vedrete di piccole pause, perché nel frattempo mi sono arrivate delle chiamate, quindi scusate. Questo è il bello della diretta per me. Vi mando un abbraccio. Io veramente amo questo lavoro, amo il mio lavoro, amo il fumetto tantissimo, ma tanto, tanto, tanto. E amo fare i video. Quindi, ragazzi, se avete voglia, continuate a seguire anche il canale Tech, Spider Web Tech. Ciao!